Il Lingotto di Torino ha ospitato Io Lavoro, la principale job fair italiana alla quale hanno aderito 120 aziende, aziende per il lavoro, franchisor, aziende formative e istituti tecnici e professionali. Presente all'iniziativa anche la consulta regionale dei giovani che ha partecipato alla tavola rotonda, nuova imprenditorialità, sostenere il talento per la creazione di nuove opportunità di lavoro. Siamo qui a Io Lavoro per promuovere quello che la consulta regionale dei giovani ha già fatto nel mese di febbraio, ovvero Io Lavoro Startup, un'iniziativa che ha toccato moltissimi giovani che si sono avvicinati, hanno fatto delle proposte con il fondo Garanzia Giovani, hanno quindi prodotto delle idee che sono assolutamente innovative. Questo contest che è stato nel mese di febbraio, oggi abbiamo l'occasione durante questo convegno, durante Io Lavoro, per poter dire qual è stata l'esperienza della consulta regionale dei giovani, ma soprattutto per cercare di fare nuove iniziative che vadano in questa direzione, cioè iniziative per i giovani, possibilità, nuove idee e quello che oggi la regione può fare.